Due interventi per potenziare la rete covid abruzzese. Questa mattina a Pescara, al cospetto delle autorità politiche e sanitarie regionali, è stato mostrato il nuovo pretriage e gli spazi di isolamento infettivi del pronto soccorso del presidio ospedaliero. Due interventi per potenziare il nosocomio, che rimarranno fruibili anche quando la pandemia sarà superata. La rete covid abruzzese è una rete estesa che abbiamo già avuto modo di inaugurare, di presentare. È una rete che vede non solo l'aumento di posti letto, ma anche le ristrutturazioni del pronto soccorso con i locali idoni messi in sicurezza per il paziente. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo, che dovrebbe essere presto implementata tramite un accordo anche con i farmacisti. L'obiettivo, ha dichiarato Laverie, è quello di vaccinare tutti entro settembre. La campagna deve concludersi a settembre, a fine settembre, così come abbiamo dichiarato. Noi abbiamo fatto un cronoprogramma. Come abbiamo più volte ribadito, l'importante è avere le dosi di vaccinazione e in atto un'organizzazione modulabile proprio a secondo dei vaccini che riceviamo su tutto il territorio attraverso una rete hub Spoc. Anche i piccoli comuni sono stati raggiunti dal team per la vaccinazione. Devo dire che oltre all'accordo con i medici di medicina generale, ci sarà anche l'accordo, abbiamo recepito quello nazionale, per i farmacisti. Quindi ancora di più aderenza sul territorio e vicinanza a tutti i nostri corregionali.